Edison ci sorprende ancora con Energy Control, il primo servizio che ti permette finalmente di tenere sotto controllo in tempo reale i tuoi consumi di elettricità e la tua spesa in euro, ovunque ti trovi. Richiedi subito il tuo Energy Control, vai su edisoncasa.it o chiama l'800 14 14 14. Bisogna risparmiare.